Dopo i squizzandi passiamo alla prossima notizia che riguarda sempre le relazioni amorose e potremmo intitolarla pensavo fosse Giulietta e invece era Romeo. Trava. Amici non ve ne andate perché questa è il canno a fuoco potente. Soprattutto perché potrebbe capitare a chiunque occhio. Ok fate attenzione. Io ve lo dico poi fate come vi pare poco mi interessa però io ve lo dico siamo in Uganda qui The Guardian ha raccolto una testimonianza molto molto importante perché quanto pare un uomo è stato colto in fallo nel vero senso della parola. Il protagonista è un imam sapete è la guida spirituale musulmana il corrispettivo credo del prete cattolico dovrebbe essere l'imam. E un giorno in una moschea questo imam vede una donna bellissima pelle di alabastro capelli neri bella se ne innamora se ne innamora da una cosa tira l'altra insomma i due si mettono insieme. E l'amore è talmente tanto forte e potente che decidono anche di progettare una vita insieme. Si sposano si sposano e all'inizio le cose vanno bene anche se i due non hanno alcun tipo di contatto. Non l'hanno avuto anche in precedenza perché comunque la religione islamica impedisce i rapporti quelli prematrimoniali. E non ce le hanno neanche dopo perché la donna asserisce di avere dei problemi fisici e quindi non può avere rapporti all'uomo però siccome la ama accetta tutto quanto. Nulla sembrava poter turbare questo amore filiaco finché non è arrivato il vicino di casa della coppia. Non suono mai affari loro. Il quale un giorno suona il campanello dell'imam. E gli dice dimmi come ti posso essere utile? E gli dice hanno rubato a casa mia. Ah caspita questa è una punizia non bella. Come mai ti hanno rubato a casa da me? Che cosa vuoi? Come ti posso essere utile? Dice mi hanno rubato a casa ma chi è stato a rubarmi a casa si trova in questa casa. È tua moglie. Mia moglie. Ma come la moglie dell'imam ti ha rubato a casa ma non è possibile? No ho chiamato la polizia. Ovviamente la polizia dell'Uganda no? Del posto dove si trovano loro. Per cui arriva la polizia. Sì è arrivato Rocco con calma. Ciao Rocco. È arrivata la polizia e ha proceduto a ispezionare la casa alla ricerca della refurtiva. Cerca di qua e cerca di là e qua non c'è. La non c'è. Alla fine la polizia ha guardato questa moglie dell'imam con un occhio un po' particolare e ha detto ma scusi venga qua lei. Ma io perché? No 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 venga qua che dobbiamo un attimo chiarire la situation. E nel chiarire la situation si sono accorti che la moglie dell'imam in realtà era un uomo. Quindi l'imam si era sposato con un uomo. Ecco. Eh ma il poverello però non se ne era accorto perché giustamente non poteva non poteva saperlo e quindi insomma ci è rimasto malissimo e alla fine ha denunciato questa persona che aveva sposato perché l'aveva ingannato sfruttando il suo la sua infatuazione. Ecco.